Il sistema bancario nazionale nell'ultimo decennio ha mostrato grandi cambiamenti. Nel 2005 si contavano 792 banche, divenute 643 nel 2015, 3.572 sportelli in meno, 36.042 bancari in meno. La Wilka presenta cifre che non possono non richiedere un cambiamento su tutto il territorio. Oggi c'è un problema di esubile al personale. Noi riteniamo che l'unico collegamento possibile, al di là dell'utilizzo delle tecnologie, sia la relazione tra operatore bancario e azienda. Quindi, al di là delle scelte istituzionali che verranno prese, del modello che verrà conglobato, crediamo che non debba venire meno l'idea di una banca nei territori vicino all'impresa. Sappiamo che anche le condizioni attuali, pensiamo purtroppo alle situazioni del terremoto, eccetera, incideranno nello sviluppo economico del centro Italia. Su questo è qualcosa che dovremmo ancora capire gli effetti, ma sicuramente ci saranno. Se da un lato l'accesso al credito è sempre stato il cruccio della piccola impresa, oggi si scopre come invece non sia mai giunta la riconversione, neanche con l'aiuto creditizio. Secondo i dati, i prestiti alle imprese hanno segnato un 2,1 in più nell'ultimo anno, mentre invece le piccole hanno continuato a contrarsi con il meno 2,1%. L'Abruzzo oggi si inserisce nel contesto nazionale. In 5 anni persi 72 sportelli e 9 banche. La Wilka presenta il proprio piano di salvezza. Dobbiamo recuperare, noi come Wilka insieme chiediamo alla regione di farsi controparte istituzionale nella politica del credito, nell'orientamento delle risorse anche di risparmio raccolte in regione, che sono comunque cospicue e che hanno visto nell'ultimo quinquennio una crescita del 9%, nonostante i disastri del 2007-2008, vengano riorientate per un impiego locale a vantaggio soprattutto delle piccole e medie imprese. Noi quindi come Wilka in particolare, ma come Wilka non possiamo che essere d'accordo, abbiamo individuato nella Fira, la finanziaria regionale, la controparte più idonea come interfaccia in questa attività di monitoraggio e politica del credito.